Non riesco a togliermi gli occhiali. Mamma, non posso, non posso. Non posso. Ok, me li tolgo. Li ho tolti, li ho tolti, ma non ho aperto. Mi chiamo Melissa e sono di Sunderland. Sono qui con la mia amica Lauren. Ci conosciamo dai tempi della scuola. Sono anche la migliore amica di Charlotte. Una cosa che mi dà fastidio di Mel è il suo caratteraccio. Ha un alter ego che chiamiamo Mariah. Lauren è un po' vanitosa. È molto egocentrica, non fa che scattarsi i selfie. Mel e io non litighiamo spesso, ma quando è successo è stato un disastro. Se Lauren scegliesse un tatuaggio orrendo, mi arrabbierei da morire. Oggi potrebbe finire in disastro. Abbiamo preso entrambi le chiavi dell'hotel, in caso dobbiamo tornare separati. Guarda cosa ha portato dentro il gatto. Non riesco a credere che ci sia il mio ragazzo e anche le mie due migliori amiche. Che bella giornata di lavoro. Che cosa avete fatto? In che guaio ci avete cacciate? Non avrei mai partecipato con una di voi. Davvero? Non credo di fidarmi di voi. Sì, io ti spreggerei. Nemmeno io mi fiderei. Perché? Li troverei con la faccia di Charlotte sulla schiena. Mi ci è voluto del tempo per farmi le amiche e spero che oggi non sia l'inizio di una nuova guerra. Ciao, Melissa! Accomodati! Non sei nemmeno un po' nervosa. Credo che la più nervosa di tutte sia io. Se Lauren non mi parlerà più per colpa del tuo cavolo di tatuaggio, non ti curerò mai più i cani. Ma quando mai me li curi? È vero. Brutta scema. Adesso di sicuro non lo farò. Ho davvero paura di scoprire cosa hai fatto. Ma ci siamo. Dal mio tre. Ok. Uno, due, tre. È davvero fantastico! Sei una persona perfida e cattiva. Sono felice del disegno. È fantastico. Ho la sensazione che mi metteranno in mezzo nella terza guerra mondiale. Non stai solo mandando un messaggio chiarissimo a Lauren. Stai mandando un messaggio chiarissimo a tutto il mondo. Non sarebbe dovuta venire al programma. Sei una vera bestia. Ecco la cabina di Jodie. Ciao, Jodie. Ciao, Lauren. Accomodati. Grazie. Prego, Serity. Spero davvero che gli abbia reso giustizia perché è un tatuaggio molto importante. Adesso sì che ho paura. Tre, due, uno. È davvero... Per me è perfetta. Wow! Lauren non si è trattenuta. La cosa che mi preoccupa è che dovrà vederlo tutti i giorni. Non pensi che si arrabbierà? Penso che potrebbe farlo. Lo sapevo che era una pessima idea. Sono sicuro che qualcuno piangerà. Cosa ti spaventa di più? Tutto. Mi sembri preoccupata. È solo un tatuaggio, Lauren. Melissa, hai paura di sapere dove te lo farò? Sì. Te lo farò sul tuo avambraccio. Oh, speriamo non sia brutto allora. Speriamo. Te lo farò sul costato sinistro. Lì fa male, non è vero? Tutto delicato, sì. Mettete gli occhiali e che si inizino i tattoo. Parto. Aia. Oh, mamma. Credo che Melanie o dieci. Cinque. Non ce la faccio più. Quattro. Tre. Due. Uno. Vuoi toglierti gli occhiali della paura? Non ce la faccio. Ti prego, non prendertela con noi. Lauren, non piangere. Non ce la faccio più. Non piangere, non piangere, non piangere. Non riesco a togliermi gli occhiali. Oh, mamma, non posso, non posso. Non posso. Ok, me li tolgo. Li ho tolti, li ho tolti, ma non ho aperto. Non è poi così male. Ci puoi raccontare l'intera storia? Chiunque conosca Lauren sa che ama farsi i selfie e che ama taggare gli outfit, quindi ho pensato che le sarebbe piaciuta molto una foto di se stessa. Non avrei mai scelto me stessa, capisci? Ma almeno non è una foto pessima. Ma certo che le piace. È la foto di se stessa. Che paura. Contiamo dal cinque, Josh, ok? Ok. Pronto? Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Puoi togliere gli occhiali della paura. Della paura. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Mamma mia. Lauren, puoi spiegarci la storia di questo tatuaggio? Il padre di Mel è mancato più di dieci anni fa ormai. e lei pensa ancora sempre a lui. Il padre di Mel era tutto per lei. Questo è un momento davvero speciale. Grazie. Amore. Non capisco cosa c'è scritto. Il mio primo amore. Il mio modello. Il mio eroe. Oh, mamma mia. È bellissimo. Ti piace? È stato bellissimo. Mel amava tantissimo suo padre. E adesso potrà vederlo tutte le volte che vuole. e poi ci sono un paio. Il mio cuore. E adesso potrà vederlo tutte le volte. Io. .